l'alba sta sorgendo salutate il nuovo giorno cosa mi rispondereste se vi dicessi che esiste un'alternativa a farmaci come viagra chalis e levitra che è molto più economica con molti meno effetti collaterali e che soprattutto si può acquistare liberamente senza ricetta magari qualcuno mi starà dando del matto dicendo sì se esistesse qualcosa del genere lo saprebbero tutti qualcun altro lì invece in attesa della risposta per poi correre fuori di casa a comprare questa miracolosa sostanza o magari a ordinarla online prima di rivelare questa sostanza però spieghiamo cosa sono viagra chalis e levitra sono farmaci per curare la disfunzione erettile cioè farmaci che aiutano ad avere un'erezione soddisfacente per poi così avere una vita sessuale soddisfacente per cui arriviamo al punto qual è questa miracolosa sostanza ce lo ha scoperto o perlomeno lo ha dimostrato uno studio turco sull'aspirina ebbene sì è l'aspirina adesso sento già le risatine in sottofondo dicendo sì l'aspirina bla 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 ma aspettate che vi parli di questo studio come ho detto è uno studio turco fatto in turchia della durata di sei settimane sono stati pre è stato preso un campione vasto di uomini che sono stati suddivisi in quattro gruppi al primo gruppo sono stati somministrati 100 milligrammi di aspirina per ogni giorno per tutta la durata delle sei settimane al secondo gruppo invece sono stati somministrati 5 milligrammi di chalis ogni giorno per tutta la durata delle sei settimane al terzo gruppo invece è stata somministrata una combinazione di 5 milligrammi di chalis più 100 milligrammi di aspirina anche qui ogni giorno per tutto l'arco delle sei settimane poi c'è stato anche un quarto gruppo a cui hanno somministrato un placebo cioè una sostanza che non ha nessun effetto e viene usata questa cosa per vedere se veramente le sostanze in questione portano a miglioramenti o peggioramenti o se il tutto non sia solo dovuto a l'effetto della nostra autosuggestione comunque arriviamo ai risultati dopo sei settimane cosa si è notato che il gruppo in cui è stato assunto solo chalis e il gruppo in cui è stata assunta solo aspirina hanno avuto un miglioramento della qualità erettile dell'erezione praticamente identico inoltre invece il gruppo in cui è stato assunto a cui è stato somministrato sia il chalis che l'aspirina combinati ha avuto un miglioramento ancora più grande però c'è un però il gruppo che ha assunto solo chalis ha provato avuto anche molti più effetti collaterali e c'è stato un buon numero di persone che hanno dovuto abbandonare lo studio perché non riuscivano a sopportare gli effetti collaterali che potevano essere naso chiuso con difficoltà a respirare o dormire bene la notte dolore di stomaco bruciore di stomaco mal di testa dolore alle articolazioni rossore in viso eccetera eccetera invece nel gruppo in cui le persone hanno assunto 5 mg di chalis come il gruppo del solo chalis ma con l'aggiunta di 100 mg di aspirina questi effetti collaterali non li hanno subiti per cui cosa mostra lo studio che l'aspirina è tanto efficace quanto il chalis nel curare la disfunzione rettile e che inoltre riduce gli effetti collaterali del chalis stesso anche il chalis è utile per curare la disfunzione rettile e come però da molti effetti collaterali inoltre se si uniscono queste due molecole o non è che si uniscono veramente nel corpo se vengono assunte tutte e due da qualche individuo sia un miglioramento ancora più ancora più grande anche se di poco con meno effetti collaterali per cui chiunque stia già assumendo o è abituato ad assumere farmaci come il viagra il chalis e levitra e per intenderci il viagra agisce in maniera simile al chalis nel corpo per cui i risultati anche usando il viagra al posto del chalis sarebbero stati più o meno simili comunque dicevo chi già sta usando questi farmaci potrebbe assumere una dose in più di aspirina anche piccola come 100 mg per ridurre gli effetti collaterali o perlomeno io se assumessi questi farmaci lo farei perché avrei meno effetti collaterali e un effetto migliore per tutti quelli che invece si vergognano andare dal dottore a chiedere una ricetta di questo beh possono provare con l'aspirina e vedere nel corso del tempo come va o come non va inoltre c'è una cosa ulteriore sembra che l'aspirina porti a dei miglioramenti sul lungo periodo più permanenti sembra che rimodelli proprio la struttura vascolare no i vasi sanguigni eccetera li rende più resistenti e più funzionali per cui da una soluzione anche diciamo non permanente permanente ma che ha effetto nel più lungo periodo che più curativa diciamo che se uno bisogna prendere il charis all'occasione ha l'effetto che deve avere in quel determinato momento ma quando non assume no anzi potrebbe anche darsi che perda un po di integrità strutturale i vasi sanguigni col chari comunque invece chi prova questa cosa con l'aspirina oltre ad avere un miglioramento che aumenta o aumenta nel corso dei giorni una volta smesso continuerebbe a notare miglioramenti l'ultima cosa da dire è che l'aspirina ha l'effetto collaterale di ridurre i livelli di vitamina k nel corpo per cui se andiamo ad assumere l'aspirina è una buona idea anche andare ad integrare con la vitamina k purtroppo di cibi con tanta vitamina k ce ne sono pochi comunque c'entro quantità minuscole di solito la dose per ogni 325 mg di aspirina andrebbe assunto un milligrammo di vitamina k meglio ancora se se dalla vitamina k2 mk4 per varie ragioni che spiegherò e parleremo in futuro letto questo piccolo recap l'aspirina in dosi nello studio di 100 mg al giorno e qui è da vedere se dosi migliore porterebbero a un beneficio maggiore o magari diventerebbero out controproducenti o se magari basterebbero anche dosi minore o chi lo sa sarebbe da studiare o da sperimentare noi stessi comunque dicevo questo studio ha mostrato che l'aspirina è tanto efficace quanto il chalice nel curare la disfunzione erettile e inoltre se assunto in combinazione migliora ancora di più la prestazione e riduce gli effetti collaterali per oggi è tutto a me non mi rimane di ricordarvi che quando si desidera ardentemente qualcosa essere avvolti dalle fiamme non è poi così male di darvi appuntamento al prossimo video e augurarvi una giornata produttiva con magari un'aspirina e poi divertitemi fate quello che volete